È ufficiale la classifica dei buzzetti dei nuovi carri allegorici che sfileranno il prossimo anno lungo Viale Gramsci a Fano. Visto che per il momento saranno due i carri di prima categoria ad essere commissionati per la prossima edizione del Carnevale, si è deciso di tenere conto dei primi cinque classificati e sempre in base al posizionamento di sceglierne uno per associazione. I giganti di cartapesta selezionati sono Plastic Woman di Giovanni Sorcinelli, associazione Fanta Gruel e il terzo classificato Viva Frida, viva la Révolution di Anna Mantomani dell'associazione Carrissi Fanesi. Poi nel caso in cui la carnevalesca richiedesse anche un terzo carro nuovo verrà realizzato quello arrivato in seconda posizione, cioè protagonista dell'arte nel tempo del maestro Paolo Furlani dell'associazione Fanta Gruel. Stesso meccanismo anche per i minicarri, al primo posto troviamo Poesia Pazzia di Mauro Chiappa, sempre della stessa associazione. Il mondo femminile dunque sarà il protagonista della manifestazione che si terrà nelle domeniche del 17-24 febbraio e del 3 marzo prossimi. La scelta dei buzzetti invece è stata fatta da una giuria composta dall'assessore alla cultura nonché architetto Stefano Marchegiani, da Carlo Simoni, attore teatrale, pittore e nipote dello storico grafico Federico Seneca, poi da Andrea Giomaro, supervisore di effetti speciali e scultore che ha lavorato con grandi registi, da Andrea Eusebi, modellatore e make-up artist e da Emanuela Orciari, illustratrice con migliaia di pubblicazioni nelle spalle. Io sono veramente felice perché quest'anno abbiamo fatto un cambio di passo, finalmente ci siamo riusciti, abbiamo una commissione di grandissima qualità, veramente cinque pezzi da 90 e tutto nella massima trasparenza. La commissione si è riunita lunedì, ovviamente nessuno della carnevalesca era presente, io per prima ho assolutamente detto che poi tutti i risultati sarebbero stati chiusi, timbrati, controfirmati, cosicché fino al giorno in cui il consiglio della carnevalesca si è riunito nessuno di noi sapeva i risultati e il mercoledì appunto ci siamo riuniti, abbiamo aperto le classifiche, abbiamo visto i carri come si sono in qualche modo classificati ed è appunto da questa classifica venuto fuori, sono venuti fuori i due carri che per il momento riusciamo a garantire con il bilancio che abbiamo perché come sapete finalmente dopo due anni i conti della carnevalesca sono a posto e quindi non voglio assolutamente rischiare di mettere in difficoltà il bilancio della carnevalesca anche per rispetto di chi verrà dopo di me. Ovviamente siamo in movimento per cercare altre economie, quindi il primo di agosto daremo il via ai due carri di prima categoria che verranno realizzati, nel frattempo cercheremo altre economie per vedere se riusciremo a fare anche il terzo carro, ovviamente il quarto carro sapete che è quello di Rossini che risfilerà per chiudere l'anno rossiniano, quindi insomma stiamo lavorando in questo senso. Questo significa che già i carristi potranno mettersi al lavoro a fine estate? Per la prima volta nella storia sì, dal primo agosto potranno mettersi a lavorare. Se il carnevale vuole fare il cambio di passo deve avere all'interno dell'ente carnevalesca dei professionisti e di conseguenza poi anche i maestri carristi saranno in qualche modo responsabilizzati e di conseguenza tutta la manifestazione e chi gli gira intorno.